Praticalo! 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 Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Sì sì, è assoluto. Cosa? Tu non mi ha detto che tu stai lasciandoci a farlo. Ma ora? Ma ora? Ma ora? Ma ora? Cosa? 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 ... ... ... ... Sì, 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 sì. . . . . . . . Si cos'è? . C'è tanta dire? C'è tanta già belli maggi non ho? Ma si, ma la canta. A, 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 a. C'è, c'è ma si, as you know.